tornate allora a football benchmark benvenuto ben trovato a andrea sartori global head of sports di kbmg ciao andrea ciao luca allora vogliamo riprendere una chiacchierata intorno ai temi legati all'economia soprattutto dopo che è intervenuto il coli dall'interno del mondo del calcio del mondo normale ma parliamo di calcio parliamo di sport e mi volevo riallacciare il primo studio che aveva fatto a kbmg qualche settimana fa sul valore della fine dei campionati da quando si erano interrotti i campionati kbmg ha studiato quanto i campionati valevano cioè prendendo in considerazione i potenziali incassi da match day che c'erano i diritti televisivi e naturalmente gli accordi commerciali ed era venuta fuori una cifra molto importante che arrivava nel globale del big five a sporare i 4 miliardi di euro esattamente in cui però chiaramente la premier league anche visto la dimensione dei vari ricardi sia commerciali ma anche che soprattutto da diritti televisivi la nostra stima in caso di cancellazione della della stagione tra il miliardo 2 il miliardo e 3 di euro con la liga poco sotto il miliardo la bundesliga intorno ai 750 milioni è una stima per la serie a che va dai 650 ai 700 milioni 400 milioni e la nostra stima per il caso di cancellazione del campionato francese o questi chiaramente è il worst case cioè il peggiore dei casi nel caso in cui non solo non si finisce la stagione ma addirittura si azzerano completamente tutte le entrate dei vari e delle varie leghe delle leghe più importanti d'europa in questo momento stiamo parlando di una possibile ripartenza al di là della data visto che ci sono delle fasi diverse che vengono contemplate anche dai vari paesi che stiamo analizzando potrebbe esserci una ripartenza prima o dopo ma abbiamo prescontato abbiamo visto che siamo ottimisti cerchiamo di capire che cosa può succedere nel caso in cui si riprenda l'attività sportiva in questo caso andrea come dobbiamo ragionare mi verrebbe da dire soltanto una cosa di sicuro non c'è l'incasso del botteghino perché comunque anche se si dovesse riprendere non ci sarà l'evento a porte chiuse esattamente diciamo che i ricavi da botteghino sono sicuramente persi la questione poi riguarda i diritti diciamo da broadcasting e in parte anche i ricavi commerciali che in assoluto sono i più difficili da stimare in ambedue gli scenari però parliamo prima di risultati totali diciamo che in caso di continuare se la dovesse stagione dovesse continuare a porte chiuse diciamo che il danno a in termini di ricavi sarebbe un quarto un quinto rispetto alla cancellazione dell'intera stagione e quindi è per questo che si può capire come ci sia un interesse da parte dei club a volere appunto finire questa stagione l'impatto sui ricavi commerciali è in assoluto il più difficile da stimare in quanto è ogni accordo è un accordo individuale certo che molti di questi partner commerciali sono aziende che in questo momento sono andate in difficoltà potrebbero far valere delle clausole di forza maggiore e di conseguenza in certi casi anche richiedere la risoluzione la risoluzione del contatto è una è una materia piuttosto piuttosto complessa e quindi c'è una certa difficoltà nello stimare appunto l'impatto commerciale in caso di cancellazione ma anche in caso dico di la stagione dovesse continuare perché se tu giochi le partite in un periodo molto molto concentrato e a stadi che diciamo a porte chiuse il valore commerciale per certi sponsor comunque diminuisce quindi secondo quella che è la tua opinione la forte spinta che c'è per riprendere l'attività è determinata anche da questo tipo di valutazione cioè ci sono naturalmente anche le valutazioni economiche che spingeranno federazioni società per cercare di attivare la ripresa il prima possibile sì assolutamente ma perché poi non è solo tanto una questione di perdita dei ricavi che chiaramente è importante ed andrà ed andrà ad impattare sulle perdite una questione di liquidità tanti club non avranno la liquidità per continuare nel caso la stagione dovesse essere interrotta su questo tema naturalmente faremo un altro approfondimento intanto grazie per la chiacchierata l'appuntamento alla prossima volta grazie a tutti grazie